A-ma-e-ing! Questo è il 1971S, Delbow, Traction Elevator, Pop-up Fixers, Older Sheen Larry Puff, Awesome Indicator, Added the upper floors. Non parlo di cellift, 18 Fixers, Added Floor Zero, Exclusive Elevator, Completo original, Rail Cab, With green walls, And a strange form, And this one is also really small. Let's ride it! A new build! A new build! A new building! That wasn't! This one has an elevator! Of course the next build! A new build! A new build! Thank you! Thanks! Sì, questa è la nuova entrata. Tutto l'elevator. In bacca. Io ho fatto 18 foto. 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 Tutto l'elevator. Oh, ma... Questo è un' storia. Un molto vecchio. Non ci entriamo. Se non ci entriamo, però... Se si blocca mi sblocchi. Non si... Del Bo. Very old Del Bo. Very old Del Bo. 297, 7189, 971 S. Corpetto del 10 kg. A very old Del Bo. 2071. Cioè, i 97. Arrivati. Questo è lussuoso. Vado al piano dentro. Sì. Sì. Questo è un'ottima. Un'ottima. Un'ottima del Bo. Con delle piccole piccole. è venuto a prendere? si si bravo che scuola fai tu? sto filmando adesso me dopo ti spiego mi spieghi tu? si si ormai già sei di casa si si pop up fixers fai sport? si si cosa? vari vari? vi piace tutti sport? si si arrivederci vieni! no salgo salgo mi piace molto mi piace molto i piccoli storici presente present Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Indicator ISO cat in second floor www.mesmerism.info 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 Nella mia casa vecchia avevo questo tipo di piccoli Volevo tornare a guardare qui Secondo Secondo Eccomi Eccomi scendendo Scendendo Trini faster Trini faster Grazie Grazie Grazie